Mia rappresenta la sintesi della collaborazione pluriannale tra due aziende del Made in Italy che condividono nel loro DNA una grande attenzione per innovazione tecnologica, per l'alta performance, per la qualità assoluta in tutto quello che fanno. And together Lamborghini and Iguzini, we build a product where design, technology and innovation are merged to create a timeless and exclusive lamp. The Iguzini Mia is taking a lot of inspiration on our cars. First of all, for me, it's about the purism and also the lamp is designed in a very clean and very puristic way, mainly driven by the Y shape. It is really like a sculpture, very iconic, very modern and very futuristic. Design per Iguzini significa cercare una continua attenzione verso la perfezione dal punto di vista della qualità dei prodotti, della loro innovazione tecnologica e della capacità che il prodotto comunichi non solo una performance altissima, ma una complicità di utilizzo totale. A very important part of the design DNA of Lamborghini are for sure our colors. And our customer really love the colors and is really part of the design DNA of Lamborghini. And you can really choose also the same personalization on the Mia lamp from Iguzini. The concept of this lamp is done that you can change the Y in different colors, you can paint the lamp in a complete different style and you can always dress this lamp also fitting perfectly to a Lamborghini car. Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione perché permette a Iguzini di migliorarsi per dare al Lamborghini quella performance assoluta, totale, innovativa e di grande qualità e quindi le esigenze del nostro mercato. La partnership with Iguzini was important for us because we are sharing the same values. Both of us, we are visionary, we are having a huge tradition and we want to always create something for the future. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.